Sì, intanto visto che l'hai citato ci tengo a sottolinearlo che appunto quella scelta che feci ormai alcuni anni fa di arrolarmi nelle IEPG fu una scelta totalmente individuale e nello stesso spirito anche stasera parlo a titolo esclusivamente personale, individuale. Prima di risponderti volevo solo commentare molto brevemente questa domanda molto strana che ti ha fatto questo giornalista, perché invitare delle filosofe o degli economisti a parlare di guerra? Mi sembra una domanda abbastanza inquietante in linea con i tempi che stiamo attraversando. Uno dei momenti più agghiaccianti degli ultimi mesi per me, almeno sul piano dell'informazione, è stato un momento che ho avuto per protagonista purtroppo proprio Donatella di Cesare quando Mario Calabresi, il giornalista, l'ha zittita urlando Io sono terra terra, non abbiamo bisogno di filosofia e questo penso che davvero racchiude in qualche modo l'ignoranza rispetto a quello che infine è la filosofia, se è vero che dopo millenni di ricerca filosofica forse due cose possiamo darle per la sodata che sono appunto che non esistono verità assolute da un lato, ma anche che esistono gerarchie tra i valori di verità delle proposizioni, quindi che esistono cose più vere di altre, più false di altre, o quantomeno esistono delle possibilità di usare l'intelligenza per cercare dei criteri, per affinare dei metodi, per riuscire a distinguere non soltanto il vero dal falso ma anche il bene dal male E quindi sempre in questo spirito diciamo di dissenso e valorizzazione del dissenso anche individuale, un po' devo dire che effettivamente anche stasera io mi sento un po' doppiamente individuo solo o dissidente perché da un lato io sono completamente contrario all'invasione russa dell'Ucraina, dall'altro sono completamente contrario alla politica della Casa Bianca rispetto a questo conflitto e naturalmente come tutti noi a maggior giorno dopo aver sentito l'intervento di Andrea mi rendo conto anche della gravità delle dinamiche speculative, degli scenari oscuri che ci sono come sempre dietro questa guerra però da un altro lato ancora io non riesco a comprendere perché quella Ucraina non sia una resistenza di una nazione invasa da un governo che ha fatto una scelta imperiale nel modo più classico di questo termine e venata di un colonialismo esplicito quando ha negato la stessa esistenza della nazione ucrania storicamente e così non riesco neanche a capire come noi potremmo non sostenere una resistenza di fronte a un'invasione del genere e quando dico noi non mi riferisco a un occidente astratto nel quale non mi riconosco perché non esiste e non mi riferisco certo allo Stato italiano rispetto al quale io ho sempre avuto delle contraddizioni come molti dei presenti ma mi riferisco a un noi possibile, diciamo a un diventare potenza in questo scenario internazionale come realtà organizzate che si potrebbero strutturare intorno però a un pensiero, a delle proposte, dei programmi e non soltanto a delle critiche. Il punto è che nella narrazione secondo cui questa è una guerra degli Stati Uniti nel momento in cui gli Stati Uniti non sono entrati in guerra, non hanno dichiarato guerra, non hanno aggredito la Russia ancora per fortuna o una guerra della Nato nel momento in cui la Nato non è entrata in guerra è evidente che vengono date armi alla resistenza ucraina ma questa non è la stessa cosa immaginiamoci se lo zar di Russia nel 1914 avesse mandato armi alla Serbia anziché dichiarare guerra all'Austria magari le cose sarebbero andate diversamente questo significa quantomeno che dobbiamo distinguere i diversi livelli secondo me e usare i concetti secondo quella che è la realtà dei fatti in questo contesto in cui si contrappongono esclusivamente nella ricostruzione Nato e Russia il problema però è che scompaiono proprio le ucraini e gli ucraini cioè anche le loro necessità perché io con le persone di nazionalità ucraina con cui ho parlato qui in Italia recentemente anche in Germania, anche la comunità ucraina per esempio a Berlino con cui ho avuto una frequentazione breve in questi giorni in qualche modo queste persone rimandano sostanzialmente a una situazione in cui ti scrivono le mail, ti parlano dicendoti no, non è vero che in quella città manca l'elettricità o sono al buio in realtà le cose stanno diversamente è vero invece che quel ponte è stato abbattuto quindi le persone non riescono più a passare dall'altra parte cioè questo è la realtà dell'Ucraina in questo momento cioè di persone che hanno dei problemi che non sono i nostri problemi sono i problemi delle persone che come in Siria, nello Yemen, in Palestina vivono in paesi in guerra e nel momento in cui voglio dire la morte la conosciamo tutti ma la guerra non è semplicemente la morte perché c'è un elemento di ingiustizia, di offesa, di abuso, di sopruso particolare nella guerra, nel subire i bombardamenti un'invasione di truppe che vogliono occupare il paese per determinarne il futuro politico quindi in questo contesto per me è difficile non sostenere quella resistenza dopodiché io penso che è sbagliata la posizione del governo Draghi perché anche l'invio di armi nel momento in cui è secretato non è trasparente questo non avviene affatto per logiche militari come dicono certi giornalisti questo avviene semplicemente per una questione di opinione pubblica o nel momento in cui non è condizionato perché anche l'invio di armi, il supporto militare o di altro tipo a una nazione invasa dovrebbe sempre essere politicamente critico e condizionato alle scelte di quel governo quindi per esempio far combattere all'interno dell'esercito ucraino gruppi neonazisti come quelli che tutti conosciamo potrebbe tranquillamente essere un criterio per non dare armi a quel governo ma sul piano di principio non vedo in che modo sia in assoluto sbagliato sostenere in una condizione così eccezionale una popolazione e le sue istituzioni che cercano di contrapporsi a una guerra di questo tipo e quindi credo che il senso di impotenza di cui si parlava prima lo condivido però diciamo non è esclusivamente determinato dal nostro avversario è un senso di impotenza che ha a che fare anche con la nostra necessità di autocritica come sinistra che è un'autocritica che dobbiamo fare in maniera molto profonda e che affonda radici negli scorsi decenni e che noi continuiamo a rimandare ora a cosa mi riferisco sarò brevissimo per andare poi al cuore della tua domanda tre punti che qualificano un po' la sinistra diciamo posto 89 primo questo antiimperialismo che poi si rivela essere almeno per quanto riguarda certi gruppi e certi individui che però sono presenti anche nelle manifestazioni di questi mesi contro la guerra come in realtà sostegno all'imperialismo di alcuni imperi che in una classifica degli imperi più o meno imperialisti o progressisti sarebbero meno peggio di altri e il peggiore di tutti per qualche motivo tra l'altro misterioso è l'Occidente sono gli Stati Uniti la Nato che sarebbero diciamo il blocco a livello planetario che in qualche modo è il peggiore in assoluto e anche come forma di governo evidentemente o come eredità giuridica quello occidentale sarebbe comunque da come dire sottomettere sul piano di giudizio anche ad altri lo sentiamo in questi ambienti particolari antimperialisti anche la Repubblica Islamica dell'Iran la stessa Russia altre esperienze sicuramente non positive il sostegno al regime di Assad in Siria il sostegno ai massacri dei siriani non soltanto dei jihadisti siriani ma anche dei democratici oppositori di Assad in Siria penso a Fulvio Grimaldi che è una delle persone che in televisione in questi ultimi mesi hanno sostenuto il punto di vista della pace che è uno degli unici tre giornalisti in Italia che ha deriso Lorenzo Orsetti il giorno dopo in cui è caduto in Siria proprio in quanto da sempre sostenitore di Assad di Saddam Hussein e di questo tipo di personaggi quindi questo è il primo problema questa visione da fantacalcio del mondo dove i conflitti le lotte sulla linea di classe postcoloniale di genere sociale vengono sostituiti con questa visione invece in cui bisogna scegliere l'impero preferito in un certo contesto e in ogni caso appunto le guerre della Russia è successo a Torino che ci sono state tre manifestazioni negli ultimi mesi non sono andate a nessuna perché nessuno degli appelli di convocazione nominava la Russia mentre invece tutte e tre nominavano la Nato allora questo è un problema culturale politico di cui dobbiamo tener conto il secondo punto è il problema appunto che c'è sul piano psicoanalitico e cioè che si è rimossa la questione dell'89 la questione dell'89 non è solo geopolitica e politica cioè bisogna fare pace col fatto che hanno fatto bene quelle persone a scendere in piazza a chiedere la caduta di quei regimi e di ottenerla perché quello non era un sistema in alcun modo che valesse la pena di conservare non era un sistema che assicurava benessere a quelle persone dunque è giusto che quelle persone abbiano fatto questo e per fortuna che hanno ottenuto i loro obiettivi naturalmente hanno ottenuto anche tutta una serie di sfortune nel momento in cui sono state come si diceva giustamente prima vittime poi di quello di cui anche noi siamo vittime cioè di un liberalismo che non assicura la libertà dello sfruttamento però bisogna anche tener conto che noi tutta una serie di libertà borghesi cioè la divisione dei poteri una diciamo dimensione di stato di diritto parziale un suffraggio universale multipartitico per quanto limitato comunque le abbiamo perché le abbiamo ottenute generazioni di movimenti operai giovanili femminili hanno ottenuto queste cose non sono state regalate da qualcuno allora nel momento in cui anche altri nel mondo vogliono questo o altro o ancora di più come anche noi vorremmo ancora di più noi dobbiamo sentirci dalla loro parte e che abbiano il passaporto iraniano russo ucraino italiano per quanto mi riguarda non fa nessuna differenza e quindi il rancore che c'è in una parte della sinistra io direi in realtà un po' in tutta la sinistra sociale diffusa verso le popolazioni dell'est che continuano a votare a manifestare a rivoltarsi chiedendo di un modello giuridico più vicino a quello dell'Unione Europea anziché a quello di Mosca quello della Federazione russa mi sembra un rancore mal riposto perché noi non abbiamo ancora elaborato una proposta politica che sia un'altra via e dunque come possiamo condannarli se loro tra quei due modelli comunque tendenzialmente stanno continuando a indicare una scelta verso uno dei due non vuol dire che noi dobbiamo apprezzare quel modello però dobbiamo anche capire secondo me le persone essere empatici con le persone e l'ultimissima cosa è anche a seguito di questa nostra incapacità di elaborare una proposta nell'arco di decenni dopo i vari fallimenti del comunismo della socialdemocrazia noi ci ritroviamo a far propria oggi una dimensione un po' reattiva a livello politico in cui ci accontentiamo di esercitare una critica in negativo e tra l'altro critiche che poi producono scritti come quelli di Andrea di Donatella di Cesare da due mili anni da cui io imparo tantissimo critiche articolate critiche fondamentali alla nozione dal ruolo dei media alle diverse narrazioni ma questo voglio dire non è comunque sufficiente perché noi dobbiamo andare al di là dobbiamo proporre qualcosa altrimenti la nostra irrilevanza sul piano storico continuerà purtroppo a essere assoluta